Signore e signori, è un grandissimo onore avere qui con me la regina del circo, Liana Orfei, circense, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice anche di questo suo romanzo di vita vera, per una vita da romanzo, o meglio bisognerebbe dire da favola, perché come nelle favole ci sono tanti animali, personaggi fantastici e ci sono tante avventure, ma è anche vero che Liana Orfei è stata musa, è stata donna apprezzatissima come professionista da personaggi del calibro di Fellini, Totò, Edoardo, Luca Ranconi, allora chiedo chi è Liana Orfei? Liana Orfei è una bambina che ha sofferto molto da piccola perché era molto ammalata, ero all'età, sono stata allettata per tanti anni, non per colpa di... c'era già all'epoca tanti anni fa, non c'era il virus, c'era la mala sanità italiana, una povera bambina che aveva preso una polmonite perché amava troppo giocare, aveva quattro anni, questa bambina, questa bambina, si è presa la bella polmonite, giocando con le amichette, prendendo sudore così, e questo medico l'ha curata per il tifo, per cui questa bambina con 41 di febbre la mettevano dentro all'acqua con il ghiaccio per farle passare la febbre e aveva una polmonite, questo mi ha rovinato per parecchio tempo. E questa bambina, dal gran desiderio di essere come gli altri, di poter levarsi, di poter camminare perché non camminavo nemmeno, questa volontà mi ha portato, mi ha salvato, mi ha salvato la vita. E non si è fermata più. No. Neanche adesso. Ad essere una donna appassionata, versatile, forte e fortunata, dice il proverbio, nata con la camicia, lei con una camicia speciale. Perché sono nata con la camicia della Madonna. E cos'è? La camicia della Madonna è una pellicina che ricopre tutto il corpo, compreso gli occhi, la bocca del neonato, per cui va tolta subito, immediatamente, ed è integra. Quando questo è tutto integro così si dice dalle mie parti, dalle nostre parti, che è la camicia della Madonna. Il sacco amniotico intero praticamente. Penso di sì, penso che sia quello. Però per me si chiama camicia della Madonna. Ed è un segno di una benedizione speciale. Di una protezione speciale. E io devo dire la verità che con quello che ho passato nella vita, con tutte le volte che... Io almeno una decina di volte dovevo essere morta, ma morta veramente. Per tutto quello che ho fatto, per tutto quello che non badavo a me stessa. Io facevo i film, buttavo giù dalla tolda delle navi e non sapevo nuotare. Senza controfigure. Senza contro... Senza saper nuotare, tra l'altro. Ho fatto i film da subacquea, ma non sapevo nemmeno nuotare. Ho fatto di tutto. Beh, non sono state queste le occasioni dove io dovevo morire. Sono state tante altre. Ma... Salvata in extremis. È il vero senso della parola. Per cui se anche io avessi avuto un dubbio, un piccolo dubbio, che questa camicia della Madonna in fondo era una cosa così illusoria... No, 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 è la verità. Una protezione speciale per tutta la sua vita. Sì. Senta, lei al di là della malattia che l'ha presa la piccolina e da cui è fortunatamente uscita ancora più forte, ha avuto un'infanzia... Uno pensa nel circo, no? Un mondo così fantastico, un'infanzia meravigliosa. Invece sono stati i pericoli, sofferenze, povertà e guerra. La povertà perché lei pensa... Io ho tanti anni. Quando i miei si sono sposati uscivano dalla grande crisi. Per cui la miseria era per tutti, non è che era per il circo in particolare. La fame, la miseria... Questa era per i ricchi non c'è stata mai fame. Ma per la gente c'era veramente il grande sacrificio. Poi dopo noi abbiamo anche subito la guerra. Noi abbiamo vissuto la guerra. Per fortuna però che abbiamo trovato questi due meravigliosi contadini che ci hanno adottato, che noi eravamo la famiglia di guerra, perché loro avevano tutti i figli in guerra. Tutti maschi e tutti in guerra. Per cui praticamente hanno adottato mia mamma e mio babbo e noi figli, nel senso che ci hanno ospitato, che ci aiutavano per il mangiare, che ci aiutavano per tutto. Anche perché suo pa ha rischiato la vita un paio di volte. Eh, ma ecco, vede anche lì, io dico la camicia della Madonna si è estesa. Perché era proprio pronto per morire. Per cui lui poteva dire quello che voleva sia ai fascisti che ai partigiani. Ma in realtà era un uomo giovane, via dalla guerra, mentre gli altri erano in guerra. Senta, papà non è stato però il capostipite degli Orfei del circo. Lei ha detto che siamo gente che ha iniziato a fare questo lavoro per necessità, cioè? All'origine della famiglia Orfei c'è un prelato che si spoglia per sposare una zingara. Un romanzo anche qui. E questo all'epoca era una cosa molto molto... lo è tuttora. Però all'epoca era impossibile nemmeno pensarla. Per cui loro non sapevano più come vivere. Lui era un bravo concertista alla spinetta. Suonava bene alla spinetta e prima riuscivano a sopravvivere con questo. Dopo non li volevano più nei teatri quando sapevano la storia, com'era. E allora hanno cominciato a mettere insieme un po' di tela, un po' di... Più che altro asse, perché la tela all'epoca era preziosissima. E hanno cominciato a fare una specie di teatrino dove loro... Lei cantava molto bene, era molto bella, lui suonava molto bene e non bastava. Allora hanno cominciato a mettere un'asinella, hanno cominciato a mettere un'asinella, sconta dieci, uno, due... l'addestramento. L'addestramento però fatto da un prelato e da un... Così hanno cominciato in questa maniera. Questo premetto è tutta la storia demandata a voce oralmente. Perché non esiste uno scritto, non esiste nulla. Io queste cose le so perché le raccontava mio nonno, per esempio me le raccontava mio babbo. Però sono le radici queste, no? È bello conoscerle. Anche se il nome Orfei, grande e potente nel mondo, l'avete creato lei e i suoi fratelli. Questi cinque personaggi, Orlando Orfei, Liana Orfei, Moira Orfei, Nando Orfei e Rinaldo Orfei, hanno fatto diventare un nome Orfei internazionale per la bellezza degli spettacoli dei tre fratelli Orfei dove noi abbiamo... Cosa facevano? Quali erano le loro specialità? La specialità era la grandiosità dei nostri spettacoli, la novità dei nostri spettacoli. Io ho portato, assieme ai miei fratelli, con le idee di mio marito e anche di Paolo, ho portato la novità assoluta, la più grande novità del circo dell'epoca che esistesse al mondo. Ho fatto il Circo Rama. Circo Rama significava un enorme schermo dietro nella culisse dove escono gli artisti. La proiezione era sul davanti. Era un cinemascope con surround, perciò il suono che seguiva tutto il filmato. Dunque noi, i miei fratelli e io, un pochettino io, abbiamo portato, abbiamo creato quello che è diventato poi l'essure du soleil, cioè la novità, l'abbiamo creata 28 anni prima. Ma perché lei il mondo del cinema lo conosceva bene, no? Perché ha avuto una carriera fulminante e il suo primo sponsor è stato inaspettatamente il più grande in generale cinematografica. Federico Fellini, com'è andata? È stata una cosa abbastanza comica, perché io arrivavo, in primo matrimonio ero sposata con il più grande giocoliere del mondo, perciò subito dopo le nozze, giovanissima, avevo appena 18 anni, sono partita per il mondo intero, tipo New York, Parigi, Londra, i più grandi locali, il Moulin Rouge, il Lido a Parigi, l'Olympia a Parigi, oppure Radio City New York in America, oppure il Paladium di Londra, e sono stata fuori un paio d'anni così. Poi dopo, alla nascita della mia bambina, ho voluto rientrare dai miei, che erano col circo a Roma, per fare le feste di Natale. E mi sono vestita con i miei bei vestiti da scena per fare la partner a mio fratello Nando, come facevo prima del matrimonio. E lì mi ha visto un agente cinematografico che stava cercando dei volti nuovi per Federico Fellini, che non appartenessero al mondo del cinema. Allora ha segnalato il mio volto e Federico Fellini ha detto sì sì, va bene, portamela che facciamo un provino. E questo agente non è venuto da me e ha telefonato alla cassa dicendo sono un agente cinematografico, vorrei parlare con la signora Orfè perché Federico Fellini vorrebbe… Quando me l'hanno detto, io ci ho fatto una risata sopra, ho detto ma figurati se Federico Fellini, Dio interi in ogni luogo, vuole me, ma andiamo. E questo esisteva, 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 finché ha detto beh se lei non mi crede vero, con una persona che mi qualificherà per dire che dico la verità, mi tenga cinque posti nel palco principale, ma che sia il palco principale, mi raccomando. E qua, beh, chiedi la casiera… Ed era Fellini. Ed è venuto Fellini. Quando l'ho visto mi sono sentita molto, molto, come posso dire… In soggezione. In soggezione da morire con Federico, mi tremavano le ginocchia proprio. E sono anche dispiaciuta per la gente, perché l'avevo trattato troppo male e il poverino lui aveva ragione. Quanto, quanto tempo è durata la vostra amicizia, sempre? Con Federico fino al giorno che lui e Giulietta sono morti. La mia mamma, Alba, Nando, Rinaldo e Eliana sono stati per Federico la famiglia perché lo diceva lui. Loro fanno parte della mia famiglia. Tant'è vero che Francesca, la nipote, la figlia di Maddalena, la sorella, la Francesca Fabri Fellini, mi chiamava ancora zia. Mi chiamava zia da piccolina e mi chiamava ancora zia adesso. È stato proprio Fellini, tra l'altro, a ideare il Circo delle Mille e una Notte. Sì, l'idea è sua. E a prestarvi, visto che lavorava con lui, un quadri premio Oscar per i costumi. Sì. Danilo Donati. È stato il più grande spettacolo detto dalla stampa mondiale, il più grande spettacolo circense. Era tutto a filo conduttore, tanto per cominciare. Era tutto a filo conduttore con musiche originali, costumi originali. Un spettacolo che all'epoca, nel 73, costò 450 milioni di soli costumi e marchi genie. Cosa voleva dire spostare una carovana infinita così? Le do qualche... velocissimo qualche... Allora, tre treni speciali con 30 vagoni ognuno. Due autocolonne per strada, una di mezzi pesanti e una di mezzi leggeri, seguita dalla polizia stradale, che ogni tanto la spezzava questa colonna per fare passare gli altri. Se no, si bloccavano tutti. Questo voleva dire. Senta, lei, insomma, ricordiamo le scene di Amorose con Marcello Mastroiani. Ricordiamo i grandissimi attori con cui lei da Orson Welles poi ha lavorato. Ricordiamo Totò. Il principe. La poesia. La poesia. L'eleganza e la gentilezza. Il vero signore. Lui era il vero principe. Lui sì che era un principe. Non i principi di grande nome che ho conosciuto io a Roma. Quelli vicino a Totò erano dei peisani, dei cafoni. Lui era un principe vero. E tuttavia in questo mondo dorato lei ha frequentato anche i principi veri, i Grimaldi di Monte Carlo. Sì. È stata… Anche il re di Francia. …chiamata e vezzeggiata e ammirata da molti personaggi importanti del jet set e della mondanità, ma non si è mai montata la testa in questo mondo così. Ma cosa… Ecco, questo me lo dicono spesso e me l'hanno detto soprattutto spesso. Cosa significa montarsi la testa? Se… C'era il mio agente che mi diceva… E abbiamo litigato parecchie volte finché lui si è stufato e ha smesso. Mi diceva… Quando tu vai sul set non devi essere così compagnona… Tu devi essere diva… Tu devi essere dall'alto… Io guardavo… Guarda che io in alto… Ho fatto il trapezio, più in alto di me non c'era nessuno. Le piaceva? Non aveva paura? No. Io avevo paura perché… Non avevo paura. Io soffrivo di vertigini. Ho dovuto combattere le vertigini per fare il trapezio. Però siccome lo volevo fare… L'ho fatto. Però se stavo qualche tempo senza andare su… Dovevo ricominciare a combattere le vertigini. Ma le difficoltà che ha vissuto da piccola o della sua famiglia… O le difficoltà del proprio limite da superare… Temprano, forgiano il carattere di una persona? O sono un peso psicologicamente così faticoso? No. Almeno per me. Per me no. Per me no perché non era una cosa imposta. Era una cosa scelta. Cioè io che avevo sofferto tanto di… Di mancanza di tutto. Io quando ero piccolina addirittura guardavo le crepe nel muro e ci facevo le favole sulle crepe perché non sapevo… Giocattoli all'epoca ce n'erano. E se c'erano erano stupide. Erano le bamboline di terracotta. Mai giocato con le bamboline. Per cui la mia fantasia andava avanti e vede seguito. Per cui tutto quello che io ho fatto… Ho fatto delle cose veramente allucinanti. Oggi se ci penso dico ma come ho fatto? Provo a sintetizzare qualcosa. Ha dormito con due cuccioli di leopardo. Ha rischiato la vita in una gabbia con un babbino. Ha visto salvare un erefante dall'annegamento. Ha tirato fuori insieme a suo marito un orso dalla fontana della reggia di Caserta… Alto tre metri. …ingolosendolo con delle bombe alla crema. Quello è stato mio marito. È stato tutto a merito suo perché io avevo solo paura perché dovevano arrivare i bambini in visita. Tutto lì. E in tutto ciò l'hanno accusata di non amare abbastanza gli animali però. Ah beh, ma sì eh. Ma sì. Gli animalisti, quelli finti. Perché ci sono gli animalisti veri che hanno tutto il mio rispetto. Quelli che amano realmente gli animali e che fanno di tutto per salvare gli animali. Noi abbiamo visto tanti piccoli circhi o pseudocirchi maltrattare gli animali, poveri e spelacchiati. Allora, questo c'era una volta, una volta, tanto tempo fa, quando esistevano anche gli schiavi. Gli umani erano schiavi e erano schiavi anche gli animali. Erano umani schiavi, animali schiavi. Quando hanno cominciato a capire che la dolcezza era quella che realmente domava le belve, tutti i domatori del mondo sono diventati così. E il fatto dell'animale in gabbia, sono d'accordo con lei. L'animale in gabbia, se viene preso dal suo ambiente naturale, che ha il mondo, i piedi, e poi viene messo in una gabbia, è la più grande crudeltà, il più grande assassino che si possa fare. Ed è questo che continuano a fare di continuo. In Italia ci sono milioni di animali presi, selvaggi, portati nelle case. Io ho visto addirittura in fotografia un bradipo tenuto dentro a un trasportino da cani, un bradipo che vive sugli alberi, che deve stare appeso per poter defecare, per poter mangiare, per poter partorare. Lui deve stare appeso a un albero, messo in quella maniera. Non al circo, nelle case. E nel circo gli animali che sono in gabbia. E non scuso le gabbie, però le gabbie enormi. Gabbie che poi si aprono con il giardino davanti, perché così vuole la legge. Che io, nell'82, assieme al presidente dell'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, abbiamo creato un protocollo d'intesa che doveva diventare legge per la stabilazione degli animali, per il trattamento degli animali, per quali animali dovevano essere addestrati e quali no. Che poi dopo, come tutte le cose italiane, siccome sotto non c'erano i soldi, andavano in campagna. Sono andate in campagna e queste cose. Allora, quegli animali che sono in gabbia, sono in gabbia, oggi nei circhi, da generazioni. Quando scappa un animale nel circo, tipo una tigra o un leone, si avvertono tutti. Sì, fortunatamente noi abbiamo tutti quanti i cancelli. Si avvertono tutti, tutti stanno dentro le caravane, si lascia aperta la loro gabbia, si lascia aperta la loro gabbia, loro fanno un giro. Se trovano un cane in giro, purtroppo lo sbranano, non devono trovare niente. E poi dopo rientrano nella loro gabbia, perché quella è la loro, sono nati lì. Lei crede che il minor attaccamento della gente, il minor fascino per gli spettatori, per il circo, oggi sia dovuto anche alle proteste degli animalisti e alle nuove disposizioni di legge che vietano gli animali? Allora, guardi, sinceramente, parlandole proprio... Tanto io non ho animali, non ho circo con gli animali, per cui non devo difendere nulla di mio. Difendo la realtà, difendo la verità. La verità è che io non trovo che ci sia questa disaffizione del circo da parte del pubblico. Diciamo che ce ne vanno meno perché hanno molti altri tipi di divertimento. Ma in altri paesi europei così? In altri paesi europei il circo è alle stelle. È solo in Italia che c'è questo mal costume di dire che il circo sta morendo. Il circo non sta morendo perché il circo è nato con l'uomo. Il circo morirà quando non ci sarà più un uomo sulla terra. Quando questa terra stanca di girare, stanca di girare questa terra, avrà smesso di girare, non ci sarà più il circo. Perché il circo è nato con l'uomo. E sa chi ha salvato gli animali del circo adesso con la pandemia? È stato il pubblico, il popolo che ama il circo con gli animali, che li hanno portato da mangiare perché è l'unico ambiente, assieme, dico la verità, assieme alla gente del viaggio, quelli del Luna Park, queste delle giostre, anche loro hanno sofferto dello stesso trattamento inumano e offensivo della totale negazione proprio popolo invisibile. Nessuno si è mai interessato né del governo, né degli enti preposti, né della politica, né i giornalisti. Si sono mai interessati del circo. Come potevano, non lavorando, mantenere gli animali? Tigri mangiano 7-8 kg di carne al giorno, gli elefanti un quintale e mezzo di panni, carote. E sono spese enormi. Ecco perché il circo non ha mai soldi da parte, perché tot prende e tot spende. E la gente vi ha aiutato. La gente ha portato tutto e la Caritas. La Caritas è stata da ringraziare e benedirla e continuano ad aiutarli, continuano ad aiutarli perché ancora oggi non hanno niente. C'è una pastorale per i circensi e i giostrai, lo sa? Sì. Un occhio attento della Chiesa proprio su di voi. Lo so. Lei l'ha vissuto di persona perché ha conosciuto tre papi. Quattro, quattro papi. Si è sentita apprezzata, stimata, presa in considerazione da loro? Ma guardi, Papa Vojtiwa che è proprio nel mio cuore, che ho incontrato tante volte, tante volte, la quinta volta che mi hanno presentato come protocollo pretende, ha detto, la conosciamo, la conosciamo simpaticamente. E ho anche tante foto assieme a lui, molto belle, che parliamo, gli ho portato degli acrobati, da quando c'è Sala Nervi. Ho portato durante i miei spettacoli a Roma, ho portato con il Golden Circus Festival, il mio festival, e prima con i miei fratelli, dei numeri eccezionali al Papa, a Vojtiwa. E la stessa cosa è successa con Papa Francesco, che addirittura Papa Francesco, grande uomo, dico io grande uomo non perché ha detto questo della mia categoria, ma perché è un grande uomo. E ha detto, voi portate la felicità e la gioia. Andate per il mondo, andate dappertutto, per il mondo, e fermatevi perché dove arrivate a voi, arriva la gioia. Senta, lei ha fatto anche sceneggiati, ha fatto programmi televisivi come con tutrice, ha lavorato nella mitica rivista con Carlo D'Apporto, ha lavorato nel teatro con grandissimi maestri, penso soltanto appunto a Luca Ronconi, ma ricordo, è una cosa che oggi non esiste più, ma che lei ricorda, amavano molti le mamme di famiglia e anche le suore, i fotoromanzi. Sì. Che non erano tutt'altro che giornaletti, beceri e volgari, erano raffinatissimi. E lei in particolare ha fatto fotoromanzi con un giovanotto galante che si chiama Renzo Arbore. Delizioso. Non l'avrei mai detto. Una persona meravigliosa. Un gran signore, un gran signore, perché lo faceva per forza questo fotoromanzo, l'aveva convinto il suo agente, e lo faceva per forza, però l'ha fatto. Perché quando ero molto piccolina, io ho cominciato a leggere che manco mi ricordo quando, ero molto piccolina, la mia mamma leggeva il Grand Hotel. E io lo leggevo ed era un sogno, mi ricordo che io aspettavo questo Grand Hotel che arrivasse, mamma mia, i giorni che doveva arrivare. E quello che so è che questo Grand Hotel lo compravano tutti, anche le suore. Tutti, perché era roba pulita, era amore dolce, era il bacio finto. Romanticismo puro. Il bacio finto. Il bacio finto. Senta, nel film I Clown, di Fellini naturalmente, cui voi come famiglia Orfei avete collaborato, e come? Come protagonisti proprio. C'è una profezia dolente sulla fine del circo, e non era certo per volere di Fellini che era innamorato del circo, lo vediamo dai disegni, dalle scenografie, da tutto quanto. È andata così? O sarà questa la fine del circo, come l'aveva prevista lui? Vede, glielo dico col sorriso sulle labbra, perché io sono la protagonista di questa serie sfortunata. Quando uscì il film I Clown, la gente del circo si offese a morte e fecero rimostranze con me perché io le dicessi a Fellini. Perché dicevano il circo non è morto, ma perché ha detto queste cose? Era il periodo in cui lavoravamo in pieno. Allora io, siccome Federico Fellini, quando noi eravamo a Roma, ci vedevamo tutte le sere, quando c'era Giulietta, quando non c'era Giulietta veniva allo spettacolo, poi dopo... Oppure veniva alla fine dello spettacolo per vedere le prove degli artisti e degli animali, oppure andavamo dalla Cesarina a cena. Però se non era una sera, era l'altra, eravamo sempre insieme. Allora io mi sono permessa, che non sapevo da che parte cominciare il discorso, mi sono permessa proprio di dirgli questo. Dico, perché Federico hai fatto questo alla gente del circo che ti adora? Tu dici che è morto il circo? Il circo? E noi mi dicono, guarda Liana, che non è così. Io ho decretato... Ho decretato. Io ho voluto significare la morte del clown, non del circo. Perché è il clown che è morto nel cuore dei bambini, è il clown che non è più la favola, non è più il mito, non è più questo, poi l'altro. Il circo una volta era lo spettacolo numero uno, arrivava ed era l'avvenimento. Un circo grande, logicamente. Aspettavano quell'avvenimento tutto l'anno, finché arrivava o un Togni o un Orfei o un Medrano, ed era il circo grande. Ed era l'avvenimento dell'anno. Questo me l'hanno raccontato anche grandi personaggi, amici miei. Proprio gente dello spettacolo, che da piccolini non facevano parte dello spettacolo. e appunto mi dicevano noi aspettavamo quel momento che arrivava il circo come fosse il Natale, come fosse la Befana. Ecco, oggi non è più così. Oggi non c'è più l'aspettativa per niente. Ma che cosa aspettiamo oggi? Tuttavia, questo è vero amaramente, ma io credo che un bambino davanti a un clown che fa sorridere o che fa intristire sappia ancora stupirsi. Che bella cosa che ha detto. Che bella cosa che ha detto. Io la ringrazio e le credo. Perché credo che sia così. Dove il circo vive al massimo, che è in Russia, dove è il numero uno. C'è danza, circo e musica. Però circo è… I bambini ancora, là è pieno di clown. Oramai noi qui in Europa di clown non ne abbiamo più. È strano a dirsi, ma è così. Ed ecco perché Federico aveva… Fellini aveva visto giusto. Ne abbiamo tanti, ma non fanno ridere. E non commuovono neanche. Senta Liana, lei che è stata protetta, l'ha sempre detto in tutti i modi, potrebbe essere un atteggiamento superstizioso. Io le chiedo, ma la gente del circo ha fede vera? Conta davvero la fede per loro? Sì, la gente del circo che vive nel pericolo sempre, dalla mattina alla sera, ma non solo quando lavora con gli animali o quando fa il trapezio, i quattro salti mortali, che ci sono arrivati in pochi, però li hanno fatti, ma vive nel pericolo giornaliero di qualsiasi cosa. Noi siamo sempre in pericolo. È l'unica nostra assicurazione credere in Dio. È credere, 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 credere. Un artista, prima di fare un esercizio difficile, si fa il segno della croce in pubblico. Non gli importa niente se lo guardano. Lui proprio crede, ma non è solo quello. La gente del circo, anche l'ho detto, fuori dal pericolo del numero di questo e dell'altro, quando vengono i temporali, quando vengono quegli uragani, noi siamo sotto una tela. Quando vengono gli incendi, le cose, e tutto, noi siamo sempre nel pericolo. E noi crediamo, ma noi crediamo davvero. Non siamo bigotti. Quello no. Per esempio, la gente del circo è difficile che vada in chiesa. Fa venire la chiesa al circo. È normale, no? Celebrare la Messa sotto il tendone. Sì. E qualche volta anche nelle gabbie degli animali, vero? Sì, sì. Infatti, guardi, i miei nipoti sono stati tutti battezzati dentro la gabbia delle tigri e dei leoni. All'infuori di mia figlia, che non ha potuto… È stata battezzata dentro la gabbia piena di fiori bianchi perché l'ha battezzata il Cardinal Siri. Che aveva paura? Beh, ma non potevamo chiedere al Cardinal Siri di entrare in gabbia con i leoni. Perché no? Per rispetto, su così. Senta, Eliana, se lei dovesse scegliere una canzone come colonna sonora della sua vita, fino adesso, naturalmente, cosa le viene in mente? I migliori anni della nostra vita. Ma non sono tutti passati, no? Sono quelli di adesso. No, infatti, mi è venuta in mente subito una di attuali, in maniera che possono anche i ragazzi conoscere, non solamente i vecchiotti come me, che io sono non vecchiotta, io sono proprio avanti. Senta, io non mi vergogno a dire la mia età al contrario. I miei 84 anni sono stati vissuti tutti, non ora per ora, ma minuto per minuto. Le ho amati, loro mi hanno amato, io le sono grata e loro mi hanno protetto. Io amo i miei 84 anni, non mi toglierei nemmeno un giorno dei miei 84 anni. E li ringrazio. Questo che ha detto è davvero un grande spettacolo. Grazie, Iana. Grazie a lei.